allora questi sono coltelli che ho realizzato per l'amico marco della coltelleria scintilla di treviso e sono tre modelli che ricalcano la forma del groman canadese il tipico coltello a cintura canadese e appunto sono stati fatti per l'amico marco e per i suoi figli sono in D2 e 440C